Nel fantastico bosco di nocci, vicino alla nostra scuola, è arrivato l'inverno. I alzi sono tutti spogli, gli scogliattoli dormono al calduccio nelle loro tane e il cielo è scuro scuro. Nel silenzio della notte si sente un suono strano. Le fate berichine, svegliate dal strano suono, escono dal canale. Improvvisamente si bloccano perché le loro ali si sono ghiacciate. Aiuto, aiuto, che ci succede? Siamo tutte congelate, proviamo a usare la nostra magia. Accidenti, non funziona, anche le nostre bacchette sono congelate. Aiuto, aiuto, chi ci aiuterà? Chi sto gridando aiuto, aiuto? Siamo noi, siamo noi, siamo le fratte berichine, siamo tutte congelate, saldoci, saldoci! Ma insomma, io voglio di dormire. Ci hanno svegliato i guffi. E noi siamo usciti dal calduccio del canale. E ci siamo congelate. Va bene, va bene, mi aiuto. Adesso mando la mia amica nuvola, che farà scendere la neve magica. La nuvola alma si sposta nel cielo e scrollandosi lascia cadere la neve magica. Piano piano le ali e le bacchette delle facce. Ci liberano dal ghiaccio. E loro possono ritornare a dormire nel canale. Tutto torna silenzioso. I guffi si addormentano sugli alberi di noci. E dal mucchio della neve magica, compaiono degli strani personaggi. I pupazzi di neve. Vu! Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti